Parla fan azzurri, benvenuti sul canale Notizie di Napoli, andiamo alle ultime dall'azzurra. Ma prima se siete nuovi qui già iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi nessuna novità dal Napoli. Nicolo Zagnolo voglioso di lasciare la Roma. Possibilmente a parametro zero, così da strappare un ricco contratto ad un big europea. Un atteggiamento, quello del talento italiano, che non sarebbe andato giù alla società, pronta a metterlo sul mercato sin da subito per evitare di perdere il giocatore tra un anno senza la possibilità di incassare nulla dalla sua partenza. Il contratto del talento giallorosso scadrà dopo il 30 giugno 2024. NDR Diverse, secondo la Gazzetta dello Sport, le squadre che già avrebbero avuto dei contatti con il suo enturaggio alla Roma per sondare il terreno. Tra queste il Tottenham di Antonio Conte, che lo abbraccerebbe volentieri e che avrebbe già il sì di Nicolò, attratto dalla prospettiva di un'esperienza in Premier League. Occhio, però, anche West Ham e Borussia Dortmund. In Italia, invece, fa sapere la rosea, si registrerebbero interessamenti da parte di Napoli e Milan, per l'estate. Non l'immediato, punto. Chi volesse acquistare Zaniolo? Tuttavia, dovrebbe essere disposto a pagare non meno di 30 milioni, al massimo 25 più 5 di bonus, e a prelevarlo in prestito con obbligo di riscatto. Una formula non gradita a tutti, i più, infatti, preferirebbero un riscatto condizionato ad una serie di condizioni, minutaggio, gol e classifica. Ipotesi che la Roma vorrebbe evitare. Ehi fan di Azzurra. Lascia la tua opinione nei commenti perché è molto importante per il Napoli.